1200 km in mese, per 8 mesi sono 9.000 km con la mia macchina. E' stato molto costoso anche, però l'ho detto già, la benzina me l'ha regalato il bambino con la gioia mi dava. Anche Romano Carletti, l'84enne di Montemignaio, già nonno dell'anno, tra gli esempi civili premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito il riconoscimento a 32 eroi del quotidiano, cittadini e cittadini, che si sono distinti per atti di eroismo, esempi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani. Tra loro appunto anche il nonno Aretino, che diventa commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica. Nonno Romano è stato premiato per lo straordinario esempio di generosità e solidarietà, che lo ha visto ogni giorno accompagnare a scuola un bambino non vedente e altrimenti impossibilitato a frequentarla. Il pensionato vive nella piccola frazione della Consuma, nel comune di Montemignaio. Ogni giorno, per otto mesi, ha percorso 60 chilometri tra i tornanti montani, per accompagnare a scuola il piccolo Jaffar, figlio dei vicini, che non aveva modo di raggiungerla senza l'aiuto del generoso concittadino. Suo padre, infatti, taglia legna già dall'albe nei boschi, la madre non ha la patente ed infine sull'autobus scolastico attivo nella zona non era prevista inizialmente alcuna forma di assistenza ai disabili, un servizio fortunatamente attivato negli ultimi mesi. Così al piccolo ci ha pensato nonno Romano. Ho deciso perché ho visto che questo bimbo aveva bisogno, aveva bisogno perché essendo non vedente c'è un gemellino che andava a scuola con lui e una sorellina, però quegli altri due andavano con il pulmino, quello non vedente non l'accettavano perché deve avere l'accompagnamento. E allora il bimbo mi raccontava che lui stava in casa tutti i giorni perché i fratelli andavano via, non poteva vedere televisioni, non poteva giocare, piangeva. E allora il bimbo mi diceva ma guarda non so come fare, e gli dico guarda ti aiuto io, per un po' di tempo ti porto io.